ci incamminiamo carlo verso il campo da tennis e il campo da calcetto questo la seconda casa la prima casa del primo video questa è la seconda casetta già che te la mostra al volo di soggiorno salone composto letto bagno lavatrice doccia prima camera da letto cucina frigo seconda camera da letto adesso usciamo e ci incamminiamo verso il campo da tennis campo da calcetto ecco qui questo è tutto giardino ripeto con campo da tennis campo da calcetto ciao carlo attendo due